All'età di 92 anni scrisse le sue memorie raccolte in un volume. Oggi di anni ne ha 102 ed è ora anche di scrivere probabilmente il volume secondo di queste memorie. Siamo con la signora Italia Palucci Pace che è in grandissima forma e che ci deve dire subito come si arriva a 102 anni così. Come si arriva? Io non ci pensavo nemmeno, ma nemmeno, e ancora adesso per me è una sorpresa. Perché lei si sente bene, non li sente gli anni. Mi sento bene, è normale. Che cosa ha fatto lei nel corso della sua vita? Cosa si è dedicata? Si è dedicata prima di tutta la famiglia e poi al lavoro. Io ricamavo. Lei signora è anche un artista in qualche modo, tra l'altro suo figlio è Marco Pace, è noto artista terramano. E poi è pure scrittrice perché ha scritto queste memorie, ha voluto raccontare un po' la sua vita in questo libro. Molto leggero, diciamo, un libro elementare. Una persona che vive da 102 anni però di cose ne ha fatte e ne ha viste sicuramente tante. Un'esperienza ricca, esperienza di vita. Che periodi ha passato nella sua vita? Cosa si ricorda soprattutto? La guerra, la seconda guerra mondiale. Era brutto. Io ero incinta poi. Insomma, era brutto. Si mangiava male, brutto. È stato il periodo più brutto della sua vita? Anche perché mio amorezzo stava sotto le armi. Io sola, sola, insomma. Poi per fortuna i miei soci avevano un ristorante molto accreditato e lì si mangiava bene. Dunque diciamo che nonostante le grandi difficoltà la fame non l'avete sofferta grazie ai vostri suoi. No, grazie a Dio no. La vita mia era molto semplice, molto liscia. Quanti figli ha? Sì, quattro figli. Due maschi e due femmini. Anzi, una bambina mi morì. Erano cinque. Poi sono nati nove nipoti. La famiglia si è allargata molto. Molti nipoti e sei nipotini, proprio nipoti. Lei ha sempre vissuto a Teramo? Sempre. Centro storico. Sono nata qui e sono nata qui. Signora Italia, che messaggio vuole lanciare a tutti, ma soprattutto ai suoi figli e ai suoi nipoti? Un messaggio che sembra facile, ma non lo è. Amare e perdonare. Quando uno riceve un torto, subito vorrebbe, invece ti devo perdonare subito. Il perdono e amare, amare tutti.